Amici di Albo Scuola, sono Giorgia, del liceo Carlo Montanari di Verona, e ora ci troviamo nella nostra sede staccata. Siamo a Palazzo Ridolfi e ora vi accompagno in una bellissima sala a ripita di affreschi. Questi sono gli affreschi del pittore veronese Brusa Sorsi. Il pregio pittorico di 40 metri su tre lati sviluppa la cavalcata di Quattro V e di Clemente VII con aggiunta di scene di genere. Imperatore e re d'Italia Volevo condividere con voi, amici di Albo Scuola, la bellezza di questo luogo. Da Montanari Focus, questo è tutto, a voi la linea.